Avevano preso di mira la comunità bengalese, agivano in gruppo quindi si sentivano forti. Ma dopo mesi di indagini nella squadra mobile di Venezia ha sgominato la baby gang composta da ragazzi tra i 13 e 18 anni, tutti italiani. Tre sono stati arrestati, due minorenni e il maggiorenne del gruppo. Sei gli episodi accertati tra novembre e gennaio. Pestaggi, rapine e minacce, tra Marghera e Mestre con le vittime costrette a prognosi ospedaliere dai 2 ai 10 giorni. Abbiamo motivo di ritenere che nelle dinamiche del branco quello che viene ritenuto, che poi non è detto sia così, è l'aggressione al più debole. E quindi probabilmente loro, nella loro azione criminosa, potrebbero aver ritenuto il cittadino straniero, il cittadino più debole o magari la vittima più facile da aggredire. Oltre a loro ci sono altri 9 indagati, 12 in tutto, tra cui un 14enne non imputabile. Le accuse vanno dalla rapina alle lesioni aggravate, discriminazione razziale. Molti di questi reati, durante la commissione di questi reati, alcuni degli autori hanno offeso le vittime in virtù della loro origine e quindi i magistrati hanno ritenuto di contestare anche l'aggravante della discriminazione razziale proprio perché è esternata dagli autori stessi delle aggressioni. Le indagini non sono concluse. Noi continueremo a lavorare perché ci sono degli altri episodi di cui già anche voi avete scritto, avete dato diffusione sulla stampa, sui media, quindi ci sono degli altri episodi per i quali ci corre l'obbligo di approfondire e di svolgere attività investigativa.